bene la lezione di oggi è sulle membrane cellulari ok abbiamo già più o meno compreso che tutte le cellule hanno una membrana esterna adesso andiamo a capire come diamine funziona questa membrana prima di tutto perché è importante è evidente per respingere i virus proprio quelli di cui si sta parlando tanto in questi giorni infatti la prima membrana è stata costruita esattamente per difendersi dagli attacchi esterni la membrana è una struttura piuttosto interessante praticamente è la prima la più importante evoluzione che ha permesso di fatto la nascita della vita prima della membrana non era infatti possibile nessun'altra funzione la membrana che vediamo qua è quella di una cellula eucariota e per cui molto complessa infatti a queste proteine messe in mezzo a un mucchio di altra roba a una struttura che si chiama fosfolipidica nome complesso per indicare vediamo qua che le parti esterne sono si dice idrofobiche e le parti interne idrofile tradotto la cellula grazie a questa membrana non può essere disciolta facilmente nell'acqua proprio perché la parte esterna idrofobica respinge l'acqua ma la parte interna che invece è idrofila è piuttosto fluida e questo fa in modo che tutta questa struttura appaia come un mosaico fluido ovvero tutte le proteine tutte le parti che sono immerse in mezzo migrano facilmente da una parte all'altra all'interno della cellula si trovano tantissime strutture fra cui il colesterolo cosiddetto che non è semplicemente quello che ci costruisce le vene le arterie e ci ammazza per infarto ma è anche quello che appunto costituisce la membrana cellulare di base quindi senza di esso non potremmo di fatto sopravvivere grazie a questa struttura mosaico fluido le proteine possono migrare da una parte all'altra di tutta la cellula in un tempo estremamente breve in meno di un secondo possiamo avere una proteina da una parte o dalla parte opposta della cellula quindi si muove molto molto in fretta abbiamo visto che ci sono due tipi di proteine alcune sono dette queste trans membrana o integrali che attraversano da una parte all'altra la membrana quindi sono utili per alcune funzioni che più avanti vedremo in un'altra lezione poi ci sono quelle che invece abbiamo visto nell'immagine prima andiamo a vederla un secondo sono solo a metà ok tipo questa che un pezzo è da una parte ma dall'altra parte non spunta questo fa in modo che la membrana abbia un aspetto diverso quindi delle funzioni diverse a seconda di dove si trovano queste proteine anche questo vedremo più avanti a che cosa servono oltre a questo all'interno della membrana abbiamo dei carboidrati che fanno da sito di riconoscimento ed è qua in queste funzioni in questi agganci che agiscono principalmente la maggior parte delle sostanze di riconoscimento e anche in una di questi in alcuni di questi passano i virus di cui parliamo tanto in questi giorni ovvero quando la membrana è difettosa diciamo tutte queste strutture dei carboidrati che si trovano all'esterno queste più verdi che vediamo qua questi qui mutano quindi le altre cellule possono riconoscere che una cellula è per esempio tumorale perché queste particelle verdi questi carboidrati non hanno la struttura che dovrebbero avere e quindi possono identificarle distruggerla questo è il motivo per cui non ci ammaliamo ogni due secondi di tumore anche se si formano per motivi di statistica centinaia di cellule tumorali nel nostro corpo ogni secondo ma appunto vengono distrutte praticamente tutte sappiamo non sempre con l'età avanzata e con l'età uno o due possono sfuggire e purtroppo fanno danni però normalmente vengono distrutte quasi tutte altra cosa importante le cellule soprattutto quelle eucariote hanno una membrana così complessa che di fatto è un tutt'uno con la membrana interna nelle altre lezioni si sa già che all'interno della cellula sono presenti per esempio l'apparato di golgi retico endoplasmatico e altre membrane interne queste sono sempre in comunicazione con la membrana esterna come si vede anche da questo schema dalla membrana questo apparato di golgi si staccano alcuni pezzi che poi si attaccano alla membrana esterna si fondono con essa e da essa vengono prodotti poi per formare un nuovo apparato di golgi quindi c'è un movimento diciamo continuo da una parte all'altra quindi a doppio senso ok una parola sui lipidi abbiamo detto che c'è il colesterolo qui in mezzo che questi qui in giallo questi variano a seconda delle funzioni della cellula prima di tutto danno alla cellula fluidità e quindi permettono le sue varie funzioni la riproduzione movimento eccetera ma sono anche utili per regolare il metabolismo dell'intera cellula si è notato che infatti noi abbiamo l'abilità costosissima in termini energetici ma anche molto utile di mantenere una temperatura costante siamo mammiferi e quindi non è che la nostra temperatura si modifica molto con l'esterno cioè se ci sono 20 gradi noi comunque rimaniamo intorno ai 36 se ci sono 5 gradi noi rimaniamo sempre a 36 se ci sono 40 gradi noi rimaniamo sempre a 36 questa caratteristica però non è comune a tutti gli animali come sappiamo ci sono animali a sangue freddo per esempio le lucertole o le rane che non possono far questo quindi quando la temperatura si abbassa o muoiono o hanno imparato hanno adottato una strategia cioè le cellule di colesterolo si modificano in una forma di grasso differente che riesce a resistere alle basse temperature così facendo l'animale può andare incontro a quello che si chiama ibernazione o letargo e quindi permette di mantenere una fluidità delle cellule e quindi di far sopravvivere le cellule anche in condizioni di particolare freddo